cari amici di mille un'avventura nella diretta di ieri sera abbiamo cominciato a mostrare questo strano programma realizzato sul commodore 64 avevo preso l'ispirazione da un'immagine in cui si mostravano due palline una in campo bianco e l'altra in campo nero che andavano a scavare queste specie di gallerie all'interno dei rispettivi campi e quindi ho pensato che potesse essere una cosa interessante per chi vuole rispolverare un po di basic per il commodore 64 di andarlo a realizzare proprio sul nostro amatissimo c64 ecco ma prima di vedere il codice e scoprire un po di cosa si tratta visto che qualcuno lo chiede sigla vediamo quindi il codice che permette di realizzare quella strana simulazione due palline che viaggiano in campi di colore opposto e che urtando i confini di queste zone scavano dei tunnel ovviamente ognuna nel campo opposto e dato che è tutto deterministico cioè queste palline rimbalzano semplicemente seguendo le normali regole della riflessione quindi se c'è un urto la pallina rimbalza indietro ma magari mantenendo la stessa velocità nella direzione in cui l'urto non è avvenuto si creano però cose molto complicate alla fine e mi pare che qualche iscritto abbia suggerito che una cosa del genere ricorda molto gli automi cellulari e allora prima di scoprire questo video meglio prima di scoprire questo codice andiamo a vedere alcuni video in cui abbiamo parlato di automi cellulari abbiamo parlato spesso di automi cellulari e cose di questo genere sul canale forse non molto spesso perché è un argomento che mi appassiona però chissà perché l'ho portato poco sul canale a parte questi video molto particolari che abbiamo cercato di riprodurre con queste strutture che ricordano sicuramente strutture biologiche e quindi cos'era questo particle life abbiamo visto anche il classico automa cellulare cioè the game of life del famoso matematico john conway infatti esiste una serie di semplicissime regole ne abbiamo già parlato vi lascio qui sotto in descrizione il link per andarle a vedere per creare strutture di questo tipo dove ogni pixel ha una evoluzione a seconda del numero di pixel accesi o spenti che lo circondano e si dimostra per tornare un altro video di recente che ho fatto che the game of life di john conway è capace di essere touring equivalente si possono costruire con opportune sequenze di questi pixel colorati dei veri e propri computer che possono calcolare qualsiasi algoritmo e quindi il diciamola la completezza di touring in una struttura di questo tipo si può ritrovare e quindi può essere a sua volta emulata da qualsiasi altro computer come per esempio una macchina di touring oppure quei processori ipotetici che hanno solo due o tre istruzioni come abbiamo visto nel video ve lo linko qui sotto se ve lo siete persi perché è molto interessante una mia chiacchierata ovviamente sempre a livello di hobbista che però vi introduce un po' all'argomento in modo molto diciamo così un po' superficiale evidentemente quindi gli automi cellulari sono questo tipo di oggetti matematici in cui ci sono tanti piccoli oggetti che di per sé si comportano in modo molto semplice ma che hanno dei comportamenti emergenti che diventano invece molto complicati non ci si aspetterebbe di vedere nascere in questo caos degli oggetti che persistono e che si spostano lungo la mappa eppure questo succede e qui avevamo fatto un video più di due anni fa in cui avevamo riprodotto the game of life in 15 minuti avevamo tentato questa sfida ci sono due ricercatori che sugli automi cellulari hanno praticamente basato la loro carriera uno è norman margolus ve ne parlo perché all'epoca negli anni 80 e 90 diciamo più 90 ho letto molti articoli di questi ricercatori norman margolus che addirittura dà il nome a un particolare una particolare struttura di automi cellulari e tommaso toffoli che nonostante il nome è un ricercatore statunitense entrambi al mit se non ricordo male tra l'altro hanno entrambi lavorato con ed fredkin che è un altro ricercatore fisico che immaginava che il nostro universo fosse un computer un computer che veniva eseguito mediante appunto regole molto semplici come quelle degli automi cellulari e in effetti su opportuni hardware erano riusciti a creare delle strutture basate su regole molto semplici che riproducevano le leggi dei gas per esempio quindi leggi che fanno parte del nostro mondo ricreate con regole molto semplici steven wolfram non so se ne ho parlato sul canale è un altro quell'autore il creatore di matematica per chi non della matematica ma del programma matematica che consente di fare tantissimi calcoli anche in modo simbolico è un altro di questi ricercatori convinto che alla base del nostro universo non ci siano regole leggi complicate come quelle che conosciamo in fondo adesso che diventano sempre più semplici ma sempre più astratte ma che ci siano delle regole di base davvero elementari e si lavora un po' su questo campo chissà se in futuro non ci saranno dei risultati ora toffoli e margolus hanno ovviamente scritto vari articoli scientifici c'è anche questo libro così vi metto il link di amazon visto che ho referra al link lo sto usando ovviamente non lo sta sfruttando nessuno perché questo libro cellular automata machines che costa 44 euro usato perché probabilmente non si trova più in ovviamente ci saranno altri libri più recenti questo però è storico perché parla di una macchina che diciamo eseguiva proprio le leggi necessarie per far evolvere questi automi cellulari una macchina che avevano costruito proprio fisicamente perché in quegli anni lì diciamo erano più veloci macchine apposite rispetto a computer di base 8 bit magari quindi avevano costruito delle macchine apposite per questi automi cellulari ovviamente questo libro anche se vi metto il link qui sotto ad amazon lo trovate ormai visto che è dell'87 su archive.org quindi lo potete sfogliare tranquillamente e vi spiega tant'è è stato digitalizzato ormai 11 anni fa qui c'è scritto 87 come come data di pubblicazione esatto una pubblicazione del mit e vi spiega un po cosa sono questi automi cellulari perché non esiste solo the game of life ne esistono tantissimi esistono ovviamente tanti esempi in rete che abbiamo anche in parte visto a questa era una limited preview usa il tu quindi non so perché ma bisogna acquistarlo vediamo un po acquistalo scusate ma credevo che su archive.org ci fosse davvero il libro e invece era solo non avevo sfogliato e ho guardato la prima pagina per vedere l'anno di pubblicazione non mi ero reso conto e quindi 21 sterline niente se lo volete dovete comprarvelo mi dispiace però tutti questi articoli che hanno scritto da cui poi hanno tratto il libro si trovano tranquillamente gratuiti perché sono pubblicazioni scientifiche aperte a tutti quindi se cercate margolus toffoli trovate gli articoli e potete approfondire questi argomenti ora perché ho parlato degli automi cellulari perché qualcuno ha detto beh somiglia un automa cellulare in effetti c'è dietro una semplice regola queste due palline che rimbalzano e quando incontrano la superficie di separazione tra il bianco e nero meglio tra il celestino e nero scavano questi buchi queste queste buche e andiamo a vedere il codice come avviene tutto questo e poi andiamo a rivedere il la nostra simulazione magari un po accelerata per scoprire quale strutture possono creare ripeto che è tutto deterministico c'è solo la scelta iniziale delle due palline per cercare di fare una cosa che sia diversa da una run all'altra ma in realtà poi il movimento è dato da questo codice e troverete delle istruzioni rnd solo all'inizio quando si stabilisce la posizione delle palline tutto il resto è deterministico quindi le strutture che trovate alla fine che si costruiscono si possono facilmente riprodurre ma come tutte queste cose che riguardano la computazione non si può sapere che forma si otterrà alla fine da una simulazione che inizia a caso se non eseguendo la simulazione purtroppo e quindi bisogna proprio lavorare sul tempo macchina per vedere quello come evolve tutto quanto ora che cosa ho fatto per realizzare questa semplice simulazione per chi è interessato al codice in basic per il commodore 64 adesso faccio una veloce analisi di quello che ho fatto e poi chi non è interessato può andare direttamente alla fine del video a vedere qualche strana struttura che si va a creare ora nella riga 100 vedete pulisco lo schermo e poi coloro lo sfondo di nero e il bordo di rosso tanto per capire il bordo dove si trova non uso il nero o l'azzurrino per evitare poi coloro metà dello schermo aiuto coloro metà dello schermo di diciamo spazi in reverse quindi viene tutto colorato in azzurrino metà schermo il resto del dello schermo invece rimane con spazi vuoti queste sono le due aree in cui si muoverà la pallina piena e la pallina in reverse nelle loro rispettive zone poi vado a calcolare una posizione a caso per la pallina questa è la pallina piena vedete che qui uso rn di zero per inizializzare il generatore di numeri casuali in modo che ogni volta riparta da una posizione casuale infatti con rn di uno invece si vanno a creare delle sequenze definite di numeri casuali quindi se uno volesse ripetere in fase di debugging una particolare situazione basterebbe qui mettere al posto di zero uno ogni volta che eseguirete questo programma riavrete sempre le stesse sequenze di numeri casuali ma mettendo zero si ottengono situazioni diverse ecco x y sono le coordinate della pallina piena abbiamo detto dobbiamo anche attribuire delle velocità a queste palline e quindi casualmente sia nella coordinata x nella coordinata y diamo delle velocità che potrebbero andare o verso destra o verso sinistra oppure verso l'alto o verso il basso ecco questa cosa l'andiamo a ripetere qui sotto usando le coordinate w e z che sono le coordinate della pallina in reverse quella che viaggia dove ci sono gli spazi in reverse dove ci sono i quadratini pieni per capirci poi qui ho messo p1 e p2 li ho messi uguali a 2024 poi scopriremo cosa sono p1 e p2 dopodiché comincio a calcolare la variabile p che è 1024 più 40 per y più x a cosa serve questa strana formula serve per capire nello schermo del commodore 64 che ha 40 colonne e 25 righe qual è la casella di memoria che io devo usare per disegnare la pallina quindi parto dalla locazione in alto a in alto a sinistra che è la locazione 1024 e poi ogni volta che ho una y scendo di 40 locazioni di memoria per ogni y perché ogni riga sono 40 caratteri e poi gli sommo la x per spostare il diciamo nella riga trovare la posizione giusta una volta che abbiamo calcolato questa p che è la locazione di memoria andiamo a disegnarci il pallino pieno che se andiamo a vedere i codici dello schermo del commodore 64 ha il codice 81 dopodiché subito dopo andiamo a mettere nella locazione p 1 lo spazio 32 corrisponde allo spazio vuoto questo a cosa servirà vedete che qui c'è scritto p 1 uguale p vuol dire che la locazione in cui ho disegnato il pallino pieno la memorizzo anche nella variabile p 1 perché la memorizzo nella variabile p 1 perché al giro successivo questa cosa verrà eseguita più volte voglio che il pallino pieno che ho appena disegnato venga cancellato mediante uno spazio e quindi devo memorizzare dove si trovava prima il pallino pieno perché poi lo vado a ridisegnare nella sua nuova posizione che calcoleremo dopo però nella vecchia posizione non ci deve rimanere il pallino pieno lo dobbiamo cancellare ecco questo nella diretta di ieri sera lo facevo in un modo diverso e c'era uno sfarfallio incredibile perché disegnavo il pallino e poi dopo un po di calcoli lo cancellavo subito e quindi non si vedeva bene adesso invece il pallino si vede perché prima lo disegno e poi lo vado a cancellare nella posizione precedente lascia una sorta di scia dietro di sé ecco dopo di che cosa facciamo ecco andiamo a calcolare secondo la velocità che ha la pallina la nuova posizione vedete vado a calcolare un px che è uguale alla posizione p a cui vado a sommare vx quindi se mi trovo in una certa locazione di memoria questa locazione di memoria a seconda se vado a destra o a sinistra gli verrà sommato 1 o sottratto 1 quindi vado esattamente nella locazione in cui si sposterebbe teoricamente la pallina se si muovesse solo in orizzontale e vado a leggere che cosa c'è in quella posizione se in quella posizione c'è il valore 160 che corrisponde allo spazio in reverse quindi è come se ci fosse un cubetto pieno allora in quella posizione vado a disegnare uno spazio cioè vado a cancellare quella posizione lì la pallina ha urtato contro un quadratino pieno e lo svuoto e questo è l'effetto che avete visto nell'anteprima l'urto crea un foro e poi come vedete la velocità che andava in un verso gli cambio segno quindi la pallina dopo aver urtato va nella direzione opposta questa cosa la facciamo anche per la coordinata y quindi se la pallina che si muove in diagonale perché ho messo una velocità sia in x che in y quindi ottengo delle velocità in diagonale questa pallina andrà a urtare magari delle porzioni piene e quindi si romperà sia il quadratino sopra che il quadratino di fianco se il quadratino di sopra e di fianco non ci sono la pallina prosegui inalterata non ho fatto il controllo se c'è un quadratino in diagonale se ci fosse un quadratino in diagonale la pallina ci va a finire sopra lo cancella automaticamente al giro successivo questo temo che possa creare dei problemi in situazioni particolari però ho fatto andare il programma per diverso tempo e non è successo nulla quindi sono situazioni particolari sicuramente dopo capiterà subito quando faremo di nuovo la simulazione però direi che non non spreco del codice basic e del tempo macchina per fare quel controllo visto che è così raro quindi la pallina che non dovesse trovare un quadratino sopra di sé o di fianco a sé si muoverebbe comunque e andrebbe a cancellare un eventuale quadratino di spigolo dopodiché incontrerebbe magari altre situazioni e quindi niente quei quadratini di spigolo vengono solo cancellati non fanno rimbalzare la pallina indietro si possono operare altre scelte ovviamente il risultato sarà simile ma la simulazione darà risultati differenti comunque per il momento la mia simulazione è così e allora cosa succede subito dopo per andare a vedere velocemente il resto del codice vedete x e y andiamo a calcolare le nuove coordinate x e y della pallina applicando le velocità che possono essere positive più 1 o negative meno 1 questo mi serve anche per andare a controllare che la x e la y del nostro della nostra pallina non escono fuori dai limiti dello schermo perché se escono fuori è un problema ovviamente perché vanno a scrivere la pallina magari proprio nel codice basic a volte può capitare che si sbagli qui a mettere il valore allora il carattere che stavamo scrivendo sullo schermo in realtà va in altre locazioni di memoria dove c'è il codice basic che era quello eseguito e quindi succedono dei bug pazzeschi che non si capiscono perché vi scrive syntax error in linea 32.700 ma io non ce l'ho questa linea semplicemente la pallina pasticciato nel codice basic e l'interprete basic ha fatto ha interpretato male quello che ha trovato quindi cose a cui fare molta attenzione altrimenti si impazzisce a trovare il bug ecco qui cosa si fa poi si calcola la nuova posizione no scusate qui è finito in pratica la pallina piena ha fatto quello che doveva fare dovremmo ricominciare il ciclo dall'inizio per farla spostare ancora per fargli rompere altri quadratini e così via dalla riga 300 invece cosa succede comincia il codice del pallino vuoto quello che è il pallino in reverse che si muove nella zona azzurrina e qui facciamo esattamente le stesse cose che avete visto prima solo che le facciamo usando i codici giusti dello spazio pieno della pallina in reverse e così via quindi se la pallina in reverse incontra gli spazi vuoti per lei sono come spazi pieni e quindi li cancella mettendo al loro posto degli spazi in reverse esattamente la stessa cosa ma diciamo speculare si può dire e così perché in effetti è lo stesso codice ma in reverse ecco questo intendevo dire non tanto speculare ma in reverse in qualche modo e alla linea 420 c'è il goto 180 che ricomincia il ciclo da qui e quindi se ora eseguiamo la nostra simulazione che dovrebbe partire spero eccola qui magari ingrandiamo anche com'è che si faceva così vedete abbiamo colorato il nostro schermo metà in reverse metà con spazi vuoti le palline stanno muovendosi nei loro spazi di competenza era stato colpito un quadratino in diagonale quindi è stato cancellato e la pallina è andata avanti ha fatto un forellino in effetti sarebbe più giusto che incontrando lo spigolo rimbalzasse quindi se dovessi un giorno rifare questo codice aggiungerei quella quella particolare richiesta infatti qui si vede che adesso vedete questa pallina nera adesso rimbalzerà torna giù e scava tre quadretti uno perché lo cancella perché si sovrappone poi quello in basso e quello a sinistra vedete sta scavando questo tunnel ora la velocità del basic è questa qui ovviamente che cosa possiamo fare o compilare tutto con i compilatori per il commodore 64 che esistono e quindi rendono tutto più veloce oppure qui imbrogliamo e facciamo eseguire tutto non alla velocità nativa del commodore 64 ma alla velocità con cui il nostro computer riesce a emulare un commodore 64 e vedete temevo fosse successo l'irreparabile però per adesso nessun syntax error per ora sembra che stia funzionando bene però è così veloce che ho avuto un attimo il dubbio che fosse capitato quel l'unico caso eccolo lì è capitato niente c'è c'è poco da fare sono stato fortunato in un'altra situazione è andato avanti per tanto tempo probabilmente capita quando le due palline sono vicine vanno una verso l'altra in una situazione particolare perché non faccio il controllo faccio solo il controllo sugli spazi pieni gli spazi vuoti quindi il codice che vi ho mostrato adesso necessita ancora di alcuni controlli però vedete che strutture complicate si riescono a ottenere le palline sono partite da altre posizioni casuali rispetto a quelle che ho fatto prima quindi magari adesso riesce ad andare avanti per tanto tempo senza che succeda l'irreparabile però è un'altra struttura ottenuta in modo deterministico se ripetessimo con le stesse posizioni questa questa cosa viene qualcosa di irregolare ma che assolutamente è predeterminato dalla posizione delle palline all'inizio e questa è una caratteristica degli automi cellulari quando diciamo partite da una configurazione possono avvenire anche cose molto complicate partendo da regole molto semplici in questo caso regole che fanno rimbalzare la pallina quando incontra lo spazio in reverse diciamo e quindi quello che non gli compete quello in cui non si può muovere ora questa cosa sicuramente sarà stata studiata da qualcuno però non ho fatto due ricerche ma non ho trovato qualcosa di particolare su questo era comunque un'immagine una gif che ho visto distribuita così per curiosità di oggetti matematici particolari e non purtroppo non sono andato a vedere quel post non l'ho più trovato insomma non ho idea di chi abbia studiato questa cosa e se abbia delle proprietà particolari però in effetti vedete si ottengono delle strutture parti diverse da da quello che ci potremmo aspettare magari ci potevamo aspettare che si scavasse piano piano tutto però in effetti ciò che viene distrutto da una pallina viene costruita dall'altra e vedete qui abbiamo ottenuto due zone nere separate da una zona azzurra che adesso piano 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 le zone nere che erano separate sono cancellate perché sta passando la pallina nera a cancellare tutto e si sta ripristinando un po la situazione mi ha dato l'impressione nelle prove che ho fatto che tendano le zone a disporsi in azzurro da una parte nero dall'altra o viceversa quindi ho notato questa cosa ma non so se è una proprietà dovuta al fatto che lo schermo in effetti è più lungo in orizzontale e quindi questi quadratini tendono a separare due zone una chiara e una scura ora il titolo di questo video sarà ancora in e young la vendetta praticamente e chi avesse visto la diretta di ieri sera è facile che avvenga l'irreparabile perché appunto non ne ho tenuto conto intanto si è formata una croce lì in mezzo che sta resistendo perché la pallina ecco è stata subito distrutta appena ho parlato comunque diciamo che l'irreparabile vedete non è ancora successo perché probabilmente avviene solo quando le palline vanno una verso l'altra così però è un caso molto è un caso molto raro che possa avvenire potrebbe avvenire a quel punto si compenetrano una delle palline prosegue dove non dovrebbe andare e per qualche motivo esce fuori dallo schermo e compare quel syntax error con una linea assurda e mi sto chiedendo perché succeda non dovrebbe succedere ma succede magari quando le palline si trovano sui bordi è una cosa sono quei bug che probabilmente è difficile trovare ma sicuramente qualcuno di voi riuscirà a riprodurre questa cosa trovate qui sotto in descrizione il link per recuperare il mio codice però è una cosa che potete facilmente riprodurre a vostra volta e magari farlo un po' più robusto con le regole giuste con gli spigoli che respingono le palline bene tutto qui commentate se vi interessa l'argomento e a me non resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione per essere arrivati fin qui dopo 40 minuti di video e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti